Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo, Guai a voi, scribie e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribie e farisei ipocriti, che costruite le tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite, se fossimo venuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel versare il sangue dei profeti. Così testimoniate contro voi stessi di essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri.